salve a tutti amici e amiche il video di oggi è una specie di test perché vorrei festeggiare l'arrivo della fibra a casa anche se i tecnici ci hanno lavorato da stamattina per tipo 12 ore che neanche un parto però alla fine posso dire che funziona e quindi addio upload che duravano ore e fra l'altro posso anche pensare di fare delle live molto presto però scordatevi che mi metto a parlare a mezzo busto cioè sono troppo vecchio per fare lo youtuber bene a parte questa introduzione ne approfitto per rispolverare il mio 8 russo questo elicottero che è diventata un'icona tanto quanto lo yui americano del video precedente mi raccomando iscrivetevi al canale qui in basso a sinistra c'è il bottone per farlo poi se avete proposte idee postatele nei commenti iniziamo verso la fine degli anni 50 michael mill capo ingegnere del progetto okb 239 reparto sperimentale e di design bureau iniziò a considerare lo sviluppo di una seconda generazione di elicotteri medi equipaggiati con la turbina a gas per rimpiazzare i modelli di mi 1 e mi 4 in una prima fase il nuovo elicottero fu proposto come una sostanziale modifica del precedente mi 4 seppure mantenendo molte delle componenti come il propulsore il rotore di coda e l'albero di trasmissione e il carrello ma la principale modifica fu il riposizionamento del propulsore da una posizione anteriore un po come era stato fatto da sicoschi per l'americano h 34 ad una posizione alta in cima alla fusoliera dando così molto più spazio interno con una maggiore capacità di carico e di portare passeggeri l'idea era di realizzare un elicottero in grado di trasportare carichi ingombranti e anche pesanti e fino a 20 passeggeri da svilupparsi in diverse varianti da quella civile a quella militare con capacità di trasporto vip cargo e combattimento sia come cannoniera che come unità imbarcata per la lotta antisottomarino su insistenza del governo sovietico prima e del comando dell'aeronautica poi nel 1958 si decise che questo elicottero avrebbe dovuto avere una capacità di carico di almeno due tonnellate lo sviluppo del v8 fu guidato dal vice capo ingegnere progettista kusnesov e remezov fu poi nominato ingegnere capo successivamente eseguito da nikivorov nel 59 dopo l'approvazione del concept design del modello in scala reale il team procedette con la progettazione dettagliata di un modello v8 monomotore questo motore era capace di erogare 1900 cavalli tuttavia le prestazioni si rivelarono inferiori alle aspettative così i progettisti si resero conto che c'era bisogno di passare a un design bimotore più sicuro e affidabile la sfida della progettazione del motore fu accolta con entusiasmo da un giovane ufficio di progettazione sperimentale con a capo l'ingegnere izotov progetto denominato okb 117 nel frattempo gli ingegneri dell'ufficio di progettazione 1000 poi migliorarono non solo la trasmissione ma anche altri componenti e sistemi del v8 ad esempio il carrello di atterraggio passò dal quadriciclo a un sistema triciclo con un carrello anteriore stersante gli ammortizzatori idraulici a cerniera verticale furono integrati nel gruppo del rotore principale il sistema antighiaccio a base alcolica fu sostituito con un elettrico perché sì cari amici sappiate che molti aerei russi ed elicotteri ancora oggi usano l'alcol come sistema antighiaccio e refrigerante quindi non è un falso mito che vanno a vodka ma su questo ci tornerò perché sull'alcol a bordo di aerei ed elicotteri russi ci sono fatterelli troppo divertenti da raccontare comunque a quel punto le modifiche tecniche seppure retroattivamente compatibili con i modelli precedenti portarono al disegno di una fusoliera completamente nuova la sezione anteriore si presentava con un abitacolo comodo e con un'ampia vetrata che consentiva un'ottima visibilità l'equipaggio era composto da tre persone comandante pilota navigatore copilota e ingegnere al centro la fusoliera centrale presentava una cabina di carico molto ampia che terminava con porte posteriori che si potevano aprire a conchiglia la cabina di carico era stata progettata per trasportare merci e attrezzature con un peso complessivo fino a due tonnellate per le missioni di soccorso l'elicottero era dotato di un verricello che poteva sollevare 150 chili montato all'esterno e sopra la porta di accesso della cabina passeggeri e per il trasporto di carichi di grandi dimensioni fu progettato un sopporto in posizione baricentrica della portata di 2500 kg il monomotore v8 fece il suo primo volo il 24 giugno 1961 pilotato da zemenkov nel dicembre dello stesso anno il primo v8 fu presentato per le prove e i test tuttavia il monomotore v8 non era destinato a essere il prototipo del futuro modello di serie e dal 63 in poi venne utilizzato solo come banco di prova nel frattempo se vi ricordate lo studio di prima i nuovi motori turbo albero tv 217 117 era il nome dello studio precedente e la nuova trasmissione vr 8 sviluppati dal team di izotov furono prodotti nell'estate del 62 questi nuovi motori sviluppavano una potenza al decollo di 1500 cavalli ciascuno e dimostravano caratteristiche prestazionali impressionanti tanto che il propulsore bimotore forniva un rapporto peso potenza sufficientemente elevato da consentire all'elicottero di mantenere il volo livellato con un solo motore operativo il 6 agosto del 61 il pilota collaudatore leishin sollevò per la prima volta la terra la versione bimotore e il 17 settembre l'elicottero effettuò il suo primo volo senza vincoli nel marzo del 63 il v8 procedette alla prima fase di test avanzati che generalmente ebbero successo anche se a volte i voli furono sospesi e l'elicottero fu messo a terra per risolvere i difetti e aggiornare le attrezzature il design del prototipo venne continuamente modificato somigliando nel tempo sempre meno al suo predecessore mi 4 fu montato poi un rotore a 5 pale per ridurre le vibrazioni oltre a questo fu aggiunto anche un pilota automatico denominato ap 34 a 4 canali migliorandone moltissimo la manovrabilità e mentre i test di sviluppo e i miglioramenti continuavano il nuovo propulsore fu dotato di un sistema di regolazione automatico che aggiornava la potenza dei motori in continuazione come richiesto per mantenere la velocità del rotore principale entro i limiti normali e sincronizzare il funzionamento dei due motori stessi in questo modo se ci fosse stato un gap un guasto ad un singolo motore l'altro avrebbe compensato la potenza nel maggio nel 1964 fu completato l'assemblaggio del modello passeggeri v8 ap dotato di cabina per trasporto vip era quasi identico al v8 at e divenne il banco di prova per i test di un sistema di pilota automatico più aggiornato e di una sincronizzazione della velocità del rotore principale lo stesso anno a settembre i voli di prova del v8 ap iniziarono la seconda fase di test ufficiali gli elicotteri dimostrarono caratteristiche eccellenti nel novembre del 64 il comitato di valutazione da parte del governo russo decise di raccomandare l'elicottero per la produzione in serie e la sua versione da trasporto truppe fu approvata per l'entrata in servizio poco dopo nell'inverno 64 65 il v8 ap fu convertito in una versione passeggeri standard con 20 sedili imbottiti la possibilità di mettere dei bagagli all'interno isolamento termico e acustico riscaldamento ventilazione aria condizionata e arredamenti e così nel 1965 furono completati gli elicotteri da trasporto civile per l'uso per la compagnia statale aeroflot sulle rotte di linea nel 1968 il modello armato mi 8 tv completò i test il tv presentava quattro piloni esterni progettati per trasportare lanciarazzi non guidati oppure bombe a caduta libera i progettisti avevano pianificato di aggiungere un sopporto per mitragliatrice azionato dalla cabina di pilotaggio posto nel muso dell'elicottero però poi rinunciarono in favore di un carico di bombe più elevato quando i test sugli armamenti furono completati nel 68 l'elicottero da trasporto truppo truppe leggere fu ufficialmente accettato per l'entrata in servizio dell'aeronautica sovietica a questo punto le parti principali dell'elicottero avevano accumulato circa mille ore di test mille ore di volo e per le sue caratteristiche eccezionali di manovrabilità e facilità di volo e bassa manutenzione il personale iniziò a soprannominarlo basilissa il bello nel 1969 il miotto sostituì completamente il mi4 sulla linea di produzione i suoi ritmi di produzione crescevano di anno in anno raggiungendo diverse centinaia di elicotteri all'anno dal 1965 al 1996 lo stabilimento di elicotteri di kazan ha prodotto in diverse modifiche un totale di 4.500 miotto alimentati dai motori tv2 117 contemporaneamente un'altra linea di produzione che iniziava nel 1970 presso la fabbrica di elicotteri di ulan ude iniziò la sua produzione e ad oggi ha prodotto più di 3.700 miotto sempre con i motori tv2 poi da allora i componenti dell'elicottero sono stati continuamente migliorati tanto che oggi la durata dei moderni miotto supera le 20 mila ore di ore di vita operativa nel 1980 il miotto ottenne il suo primo certificato di aeronavigabilità secondo gli standard americani e internazionali per consentire le operazioni e i collegamenti con il giappone gli aggiornamenti al propulsore hanno svolto un ruolo chiave nel migliorare ulteriormente le prestazioni dell'elicottero alla fine degli anni 70 tutta la linea del miotto è stata aggiornata con un impianto di propulsione più potente perché la squadra di isotov a leningrado aveva sviluppato poi oltre al motore tv2 il motore tv3 117 che produceva 1900 cavalli una versione di questo motore era prevista anche per essere installata sull'elicottero da combattimento mi24 poiché i progettisti si concentravano sulla massimizzazione della inter intercambiabilità dei pezzi e dei propulsori fra vari modelli i test di volo hanno dimostrato un miglioramento significativo delle prestazioni in particolare della tangenza massima e della velocità di salita così il numero dei piloni esterni passato da 4 a 6 in totali con la possibilità di montare lanciatori di razzi non guidati da 80 mm dei gun pod upk 23 a doppia canna da 20 mm mitragliatrici a canne rotanti guv 8700 da 12,7 o lancia granate a gs 17 e più le classiche bombe fab russe da 100 250 fino a 500 kg insomma la versione poi del mio 8 mt di questo parlando è la cannoniera ma è anche tranquillamente per il trasporto di soldati o cargo e la versione multi ruolo diciamo così che poi è anche quella che mi state vedendo usare in queste immagini l'elicottero fu approvato per l'impiego operativo è designato come mi 8 mt entrando in produzione in serie presso lo stabilimento di elicotteri di kazan a partire dal 1977 inizialmente il tasso di produzione degli elicotteri con motore tv 3 era naturalmente inferiore a quello dei modelli precedenti ma questo a causa della guerra in afghanistan che richiese una revisione del portafoglio ordini e verso la metà degli anni 80 e mi 8 mt e le sue modifiche dominavano le catene di montaggio dal 77 al 97 lo stabilimento di elicotteri di kazan ha prodotto più di 3500 elicotteri con motori tv 3 nel 1981 e mi 8 mt fece il suo debutto al salone aereo di parigi per ragioni promozionali venne dominato mi 17 che divenne il suo nome per l'esportazione sul mercato mondiale una versione passeggeri simile nello stile agli interni del mi 8 p fu denominata mi 17 p il modello base mi 8 mt come il suo predecessore ha dato origine a numerose varianti civili e militari quindi dopo aver analizzato l'esperienza in afghanistan i progettisti poi hanno migliorato la durabilità delle parti e dei componenti dell'elicottero per migliorare la sicurezza operativa il mi 8 mtv era dotato di un sistema di ammaraggio d'emergenza il mi 8 mtv sempre poi entrato in produzione nell'88 e il modello base disponibile nelle versioni da trasporto trasporto truppe assalto aereo ambulanza nonché nelle versioni di supporto antincendio e posamine dal 91 la produzione ha continuato ancora e ancora anche con licenze per terze parti in altri paesi come la cina l'india il canada con sotto versioni per l'esportazione personalizzate e dedicate negli equipaggiamenti nelle avioniche e per le stazioni disponibili per le armi quindi l'elicottero ha continuato ad accumulare licenze su licenze per i trasporti e collegamenti internazionali specialmente in ambito civile fornendo collegamenti fra le isole ovunque nel mondo come è avvenuto per lo uo americano l'u h1 per intenderci il mi 8 ha avuto anche un enorme successo internazionale come elicottero medio tutto fare e lo sfede lo si vede ovunque e anche piuttosto famoso in televisione e nei telegiornali e insomma è l'elicottero russo per eccellenza cioè a livello di notorietà penso che vinca a mani basse contro il mi 24 e il k 50 i paesi che lo utilizzano sono tantissimi fra i più disparati a partire dalla finlandia l'irac il sudan l'ucraina gli stati uniti cioè anche gli stati uniti tipo la cia e le forze speciali americane hanno usato il mi 8 e la sua versione da esportazione durante le operazioni in afghanistan nel 2022 la lista dei paesi utilizzatori è enorme a larga maggioranza africana o nella sfera di influenza della russia ma appunto canada germania stati uniti sono anch'essi utilizzatori che con la russia non c'entrano niente quindi perdonatemi ma a questo punto è veramente impossibile a questo punto menzionare il suo impiego operativo non mi basterebbe un giorno altro che due ore posso giusto citare per esempio la finlandia che li ha usati in operazioni speciali durante la guerra fredda la georgia con la guerra in akazia fra il 1992 e il 93 in quell'occasione entrambe le fazioni lo usarono e un mi 8 russo fu abbattuto da uno strela un piccolo missile spalleggiabile poi durante la guerra in iraq e in iran fra iraq e iran scusate nel 1980 dove fra l'altro curioso notare che si verificarono delle battaglie aeree proprio fra il mi 8 e la h1 air cobra iraniano di produzione americana e poi in tutte le guerre guerriglie africane azioni di insurrezioni pirateria ovunque nel mondo e negli anni a seguire ultimo fra tutti il conflitto in ucraina e anche se non sappiamo con certezza il numero degli elicotteri abbattuti i video di questi abbattimenti sono diventati piuttosto virali e parlano abbastanza chiaro e del resto per quanto possa essere armato è pur sempre un elicottero da trasporto anzi è pur sempre un elicottero cioè quindi è vulnerabile a qualsiasi cosa gli si tiri addosso però fra tutti gli eventi e il suo enorme storia di impiego imperativo forse un fatto storico fra tutti penso che sia il più significativo tra aprile e maggio 1986 questi elicotteri furono utilizzati in gran numero per lanciare materiali che avrebbero dovuto assorbire le radiazioni nel reattore numero 4 della centrale nucleare di chernobyl dopo il disastro furono sganciate oltre 5000 tonnellate di sabbia piombo argilla e boro per assorbire la dispersione di neutroni e smorzare la temperatura del reattore la maggior parte degli elicotteri furono gravemente irradiati subito abbandonati in una gigantesca discarica il cosiddetto cimitero delle macchine vicino a chernobyl e non è difficile immaginare la sorte degli equipaggi nelle immagini di repertorio fra l'altro io me lo ricordo perché l'ho visto con i miei occhi in televisione all'epoca un miotto precipitò proprio vicino al reattore dopo aver colpito il cavo di una gru edile aggiungendo al numero delle vittime anche i quattro membri dell'equipaggio a questo proposito se non l'avete vista vista consiglio la miniserie televisiva uscita nel 2019 che si chiama chernobyl e il miotto si vede praticamente in ogni episodio in continuazione quindi questo elicottero russo è diventato un'icona è un bellissimo esempio di ingegnere russa è veramente poco digitale tanto analogico voglio dire lo avete visto nelle immagini che vi ho proposto è una cabina piena di bottoni selettori ha bisogno di tre persone e non a caso i due motori richiedono un ingegnere a bordo pronto ad arrampicarsi dalla finestrella con la chiave inglese in mano ma per il resto una volta in volo è una macchina molto agile veloce e volendo può equipaggiarsi con un armamento poderoso poi chiaramente non può fare bene entrambe le cose cioè nel suo impiego operativo o trasporta truppe oppure fa da cannoniera difficile che faccia entrambe le cose insieme poi in realtà tutti sanno che i russi hanno elicotteri migliori per fare attacco al suolo però spesso il miotto è stato visto operare insieme ai mi 24 in coppia o i k 50 in operazioni combinate per quanto possa valere la mia opinione credo che sia una di quelle macchine volanti talmente brutte che poi risultano belle in un certo senso ha un suo fascino particolare anche se preferisco il suo fratellone più cattivo il mi 24 ma a lui dedicherò un video a parte in futuro e con questo è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima